Parapapapararara Sarà qualche caspio di problema con l'antivirus Ma vabbè, fatto sta che noi ormai abbiamo aperto i tavoli Quindi l'idea era farvi un bel video live Per farvi vedere un pochettino di robe Ma pazienza Allora, cosa faremo questa sera? Individeremo subito tutti i reg Li metteremo tutti in azzurro per ora Come reg debole Poi man mano, a seconda di quello che ci faranno Aumenteremo un po' anche il loro grado di eventuale bravura Selecteremo i tavoli Non perché con molta onestà abbia paura di giocare questo limite Full fish Cioè con alcuni reg di questo livello Ma semplicemente perché voglio adeguarmi Anche a quello che tecnicamente potreste fare voi Quindi andare a giocare ovviamente nei tavoli Dove vi conviene giocare Dove naturalmente è miglior la presa Allora, tavolo in basso a sinistra Sotti potremmo avere del valore di showdown Quindi cercheremo back Ah, un bel colcone a sotto, veramente bello Quindi qual è il discorso? Forse pensavo di inventarsi qualcosa su una beta river In quel caso ovviamente avrebbe già più senso E nulla, semplicemente quindi come dicevo Andremo un attimino a individuare i tavoli Quando vediamo qualche tavolo che non ci garba più Lo cambiamo in maniera rapida Senza star lì a temporeggiare O a perderci tempo O a pensare che però io posso fare di più Bla 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 No, semplicemente cambio tavolo e gg Quindi ne terrò aperti anche altri Nel successivo monitor Dove monitorerò la situazione E cercherò un attimino di capire se è il caso di spostare alcuni tavoli Ovviamente chi monotabla lo inizio a mettere chiaramente come giocatore occasionale Anche questo ovviamente può essere modificato in sede successiva Qui faccio un iso reso al tavolo 2 I tavoli come sempre, come negli altri video che avete avuto modo di osservare Vanno da 1 a 6 I primi 3 in alto E i successivi 3 in basso Cosa altro faremo se cerchiamo di prendere qualche nota in più? Perché? Perché nelle prime situazioni Nei primi video non ne ho presi assolutamente Ho cercato di giocare molto molto lineare Mentre adesso se ci sono delle situazioni che possono essere differenti Ovviamente le prendiamo Qui sto bat wavs L'ho già tribbettato una volta Quindi lo iniziamo a notare Che in bvb è già stato tribbettato Mentre sto super chief Sicuramente un campione del pulito Gioca solo due tavoli Questo è interessante Questo è un fish Ad esempio questo tavolo in alto a sinistra Cioè in alto a destra il numero 3 Onestamente non mi sembra un gran tavolo Quindi molto probabilmente lo cambierò C'è Coutinho Ne ne ha questi due short E questo si potrebbe essere un occasionale Ma se non verifico realmente che è un occasionale Avere questi due short a sinistra Non è che sia proprio l'ideale Quindi in queste situazioni rinunciate Il tavolo migliore non è quello che contiene più fish Ma è quello che li contiene Nelle condizioni in cui vi possono pagare meglio Allora il board a sotto 3 è fantastico Abbiamo anche il K di quadri Ma è naturale che se super chief decide di giocare in maniera aggressiva Le opzioni potrebbero essere due Ho assettato gli 8 e i 3 E mi aspetto sempre che queste mani facciano parte del suo range Oppure banalmente potrebbe avere delle combinazioni come a soquasso jack Ma non credo le giochi sempre così Farò una cibetta non troppo robusta Perché comunque con ultra saltan ci giochiamo facilmente lo stack Al tavolo in bassa sinistra ho isolato veramente veramente grosso Perché ho già avuto modo di giocare con questo Nelu Un paio di mani E ho già visto comunque un bel giocatore Quindi un giocatore che limp colla tutto Quindi se ho una mano di valore voglio utilizzare una size bella robusta Sulle size farò molta attenzione Ho già fatto coaching Ho visto che comunque ancora le size risultano essere una problematica Perché molto spesso si tende a utilizzare delle size eccessivamente piccolo E eccessivamente grandi in altre situazioni Quindi cercheremo stasera di dare un equilibrio Io apro anche K7 off Non ho l'add Quindi faccio un po' fatica a capire quanto effettivamente si difende in queste situazioni Ma parto dall'idea comunque di aprire molto molto largo E poi rivalutare in seguito Cioè ad aggiustarsi dopo si fa sempre in tempo Short Come vedete io in verde metto anche giocatori che presumibilmente Sono anche normali Cioè non sono assolutamente dei fish Ma preferisco come ho già detto Partire da un'idea un po' più Dicevo da un'idea un po' più Cioè un po' più Come posso dire Sempliciotta Cioè vado a semplificare un po' la situazione E poi ripeto ad aggiustarsi dopo si fa sempre in tempo Quella assodonna sembra strafigo Ma vi assicuro che è molto meno figo di quello che sembra Ovviamente non lo ci bettiamo 8-6 ovviamente ci facciamo i fattacci nostri Socappa lo cerco back Alla fine comunque non mi interessa con questo Claudio andare a giocare in maniera aggressiva Non ne ho la minima voglia Qua se venissi raisato da qualcuno Ecco ad esempio il call di Super Chief non mi fa impazzire Andrò ovviamente a fare un ulteriore No invece vado a cercare Mi aspetto una bett di Ultras Cioè ci può stare comunque una bett di Ultras Abbastanza spesso E il 10 ovviamente è una merda Proprio detto schiettamente Perché? Perché Bah proveremo a value bettare ancora Ovviamente da cosa? Da qualche asso X? Ma è chiaro che se vengo sciovato è un casino E' un casino perché ci sono tutti i 10X come Jack-T KT T9 Questi chiamano tutti Perché questo è scarso Quindi non li folderebbe mai K Jack c'è ancora E l'idea era ovviamente bettare per fare in modo che l'altro chiamasse Ecco ora Una linea aggressiva di Super Chief invece mi stupirebbe abbastanza Perché? Perché banalmente Lo ha fatto veramente poco Ma ha mostrato un assi affoldato Interessante Già il fatto che mostra Mi farà mettere un colorino Green Ok Allora abbiamo ricevuto un checkback da parte di Verrons E qui giocheremo subito aggressivi Abbiamo segnato il giocatore come reg Quindi faremo 4 E poi Vabbè Betteremo anche Il river Ma penso di essere bluff cacciato molto spesso Lo voglio vedere però che bin bluff caccia Se non lo fa Ovviamente Amen Perché lo sto facendo? Perché l'avrei fatto comunque in maniera Iper hyper simple Mi aspetto che questi tipi di giocatori facciano molto spesso un checkback Per poi chi va a pari Allora se l'idea di base è questa Preferisco subito Muovermi Provando a testare l'avversario Questa è l'idea Voi dovete testare gli avversari Dovete aggredirli Dovete metterli in difficoltà Dovete fare in modo che loro non capiscano nulla E arrivino alla condizione in cui dicono Ok basta Mi sono rotto il caso Mi alzo Cioè questa è l'idea Ovviamente questo non significa spiguare a caso Che è la traduzione che fanno molti Ovvero visto che Devo aggredire Allora prendo ogni spot Barrello come se non ci fosse un domani Divento una macchina da barrel Non è proprio quello che bisogna fare Bisogna fare tutto quello che serve Ma in maniera estremamente attenta Ok questo tavolo Questo tavolo non è che mi faccia anch'esso impazzire C'è un mini race di questo Nelu Ovviamente L'idea di base è squizzare Diventa interessante se clicca Ecco Proprio quello che ha fatto Diventa proprio interessantissimo Però è anche possibile Che non sia sempre e soltanto gli assi In questa situazione Andrò a fare solo call Ok questo board mi lascia abbastanza Indifferente Quindi posso foldare Vabbè Asso donna con ultra Avendo 30 bui Una situazione in cui noi ci siamo stati veramente aggressivi Non mi aspetto sempre una mano eccezionale Infatti Ha girato un semplicissimo 5.5 E un flip Vabbè lo perdiamo No problem La fine Era proprio una di quelle condizioni Mi aspetto che anche mani come a su jackassotti Mani di questo genere Si buttino proprio No problem Ricordiamo sempre uno degli elementi più importanti Che non dobbiamo andare a giocare Con l'intenzione Di Vincere ogni pot Ma dobbiamo giocare Con l'intenzione Di prendere le scelte A valore atteso Positivo Perché sono quelle le scelte Che ci porteranno a fare dei soldi Nel lungo periodo Sul flat in basso a sinistra Con la sua capa Il motivo è che se sciovano Mi aspetto che lui abbia tantissime volte Una mano come a sua donna E allora di conseguenza Preferisco sciovare io Cioè Preferisco flattare E lasciare che magari Quelle poche volte Che lui ha una mano A caso Magari la La spiva O magari se hitola Su il capo Lui non riesce a foldare La sua mano Ho c'è collato a sua capa Al tavolo 1 Mi aspetto ogni tanto Di venire bettato Contro missus Con mani deboli Chiaramente il tar Non è mai Mai call Tavolo 4 Vedo che nessuno Vuole giocare con Alberto Vabbè io ovviamente Non betterò mai Non ho modo Proprio di bettare E Vabbè a questo punto Non fondo Sarebbe interessante Vedere qualche piccola info Su questo Nelo Ma non posso mai chiamare Allora Iniziamo La barrel Converance Qui ve lo dico già In basso a destra Sarà un bom 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 Proprio Non voglio neanche Vedere cosa scende Faccio un call Perché Perché non mi aspetto Che lui abbia mai valore A parte 2-2 K2 Q2-Sood Se le difende Quindi farò Call call A caso E Qualora lui dovesse Checcare Betto io Se dovesse bettare Show Diretto Repare Aso T Repare T9 Repare KK QQ Eccetera Se dovesse Checcare Invece Vado a fare Una Simile Value Bet Se poi mi sta Checcollando Con set Bravissimo Ovviamente Ma ripete Il suo range Secondo me È troppo spesso Composto da Puro Bluff Ricordatevi Sempre che Quando andate A Chec Che risare Contro Un avversario Sensato Cercate Di farlo Ovviamente Rappresentando Qualcosa Quando non Rappresentate Nullo Ovviamente L'idea È quello Proprio Di Giocare Per Deception Cosa Significa Far Finta Di Rappresentare Qualcosa Ma In realtà Fare in modo Di non rappresentare Veramente nulla Ma in realtà Avete Veramente Qualcosa Dai Che non Esce Nell'asso Nel k Fantastico Vabbè Qui con Questo Giocatore Tutti Dentro Non Penso Foldi Mai Altarne Se Foldo Sono Pazzo Sono Pazzo Sono Un missile Non me L'aspettavo Completamente Vabbè Amen Però Non me L'aspettavo Davvero Nel senso Che non Pensavo Che Facesse Un Re Saltare Con L'intenzione Di Foldare Ovviamente La Conoscenza Del Dei Vari Spot Altrimenti Rischiate Solo Di Buttare Soldi In Mezzo So K Non Bloccherò Nulla Delle Combinazioni Che Mi Interessano Ecco La Donna Nel Massimo E per Questo Dovesse Bettare Bet Waves Fold Se Fosse Uscito Il 3 E Lui Bettava Chiamavo Poi Se Miva Lui Bettava Con Una pair Bravo Ma In Generale Ci Sono Q K K K Jack Tutte Queste Barri Hanno Missate Quindi Posso Chiamare Soprattutto Q Jack Quella Che Mi Interessava Di Più Allora Verons Apre Da Cut Off 99 Sarà Qualora Ci Fosse Un Fold Una Tribetta Invece Se Tribetta Lui Che È Quello Che Ha Broccato Con Allora Lui È Quello Che Ha Broccato Con Se Non Ricordo Male Due Secondi Fa È Quello Che Ha Broccato Con 3 3 Rivediamo Un Attimino Per Fare Un Po Di Ente Locale Ok Ora Magari L'ho Fatto Perché Era Short Però Siccome Io Sono Un Disgraziato Vado A col Forbettare Piccolo Per Chiamare Ovviamente Non è Il Massimo L'ho Già Detto Perché Acqua Sbagliato Completamente Perché Non è Detto Che Stia Facendo La Comunque Nella peggiore L'ipotesi Potrebbe Far Call Ce La Giochiamo Oppure Shovare Meglio E Amen Prendiamo Il 9 Anche Questa Una Situazione Figlia Ovviamente Di Qualcosa Che Abbiamo Visto Qui Rocallo Potrebbe Avere Spesso Meglio Ok Quindi Anche In Questo Caso Nei Limpati State Sempre Attento Che La Forza Della Vostra Mano Nell' Limpati È Sempre Molto Tutta L'Erbo Un Fascio Q Jack Sud Farò Call Abbiamo Una Discreta Equity Farò Call Col Fold Ovviamente Perché Non Mi Aspetto Mai Tre Barre Al Finte Già Qui Se Dovesse Ribettare Il Tarn Io Con Molta Sincerità Non Mi Aspetto Tantissimo Alton Bluff Allo Stesso Modo Se Adesso Bet A Fold La Linea Bet Check Bet Finta Forse La Vediamo Fare A 10 Player Su 1000 Quindi Un Per Cento Del Field Infatti La Prima È stata Fatta Totalmente Di Braccio E Poi Un Give Up Nulla Che Mi Stupisca Ripeto Ok Questo Tavolo Mi Fa Abbastanza Pena Lo Toglieremo E Aggiungeremo Questo Che È Un Po Meglio Perché Ve lo Tolgo Perché C'è Quello Lì Con Tre Bui Quell'altro Che Non Non C'ha Nulla Praticamente Quindi Non Mi Interessa Cioè Non È Inutile Andare A giocare Ripeto Questi Tavoli Dove Non C'è Nessuno Di Competente Cioè Scusate Sono tutti Tre Virgolette Competenti E Quindi Gli Altri Che Non Sono Competenti C'hanno Tre Bui Veramente Quindi In Queste Situazioni Preferisco Sempre Defilarmi Fammi Fatti Miei Togli Ma Anche Il Tavolo Uno Devo Un attimo Capire Come Sono Quei Due Player Ma Potrebbe Essere Un Tavolo Da Mollare No Perché Abbiamo Un Casual Player Sulla Destra Quindi Va Bene Qua Foltiamo Quello L'avevo Cercato In un Altro Monitor Anche Questo Ah No Questo Quello L'ho Aggiunto Super Chief Sto Vedendo Una Manna In Interessante Come Vedete Mancare La Continuation Bet In Quel Board È Una Situazione Abbastanza Inusuale Soprattutto Per Questi Livelli Ah Veramente Più che Inusuale Non lo Fa Nessuno K G E 99 Che Ho Signato In Verdino La Size Che Fa Qui Me Lo Conferma Se Verons Mette Metto Io Se Verons Non Metto Metto Io Se Verons For Bet Foldo Io Ecco Assassista Nelu Perché Mi Sembra Molto Carico Allora KG E Beta Una La Guardiamo Come si Direbbe Nei Circoli Se Dovesse Ripettere Il Tano Probabilmente Folderei Ci Sono Dei Blef Nel Suo Range Ma Mi Aspetto Tante Volte Overpair Tante Volte Gli Assi Non Mi Aspetto A So K Che Fa Due Volte La Stessa Scelta Perché Ho Chiamato La Prima Goal In generale Non lo farei mai Farei sempre Una 3bet Il suo Rapporto Strike to Pot Non è Altissimo Quindi Preferisco Chiamare E poi Giocare Bet Bet Potrebbe Avere Assi Deboli Sì Però Potrebbe Avere I jack Potrebbe Avere QT Potrebbe Avere Altre Mani Non Mi Aspettavo Lo Shove Ovviamente Fold Se Ha Senso Arrendersi River Sì Assolutamente Molto Senso Il Punto È Che Preferisco Sempre Essere Io Quello Che Ha Il Coltello Alla Parte Del Manico Quindi Dal Mio Punto Di Vista L'idea Di Bleffare Ci sta Assolutamente Allora Qui Ho Una Value Con 5 5 Al Tavolo 9 Ah Sì Tavolo 9 Al Tavolo 4 Chiama E A Questo Punto Penso Di Cercollare E Anche A River Penso Cercollare Vediamo La Size Che Fa Mi Aspetta Che Posso Bleffare A Caso Oh Yes Ci Bettiamo Oddio In realtà Preferivo Fare Una Delay Ora Che Lo Sto Vedendo Meglio Ma Visto Il Tarn Bravo Alberto Ottima Scelta Ottima Scelta Questa La Bet D'altronde Qui 3 Non Le Prendo Mai Secondo Me Perché Durissima Mi Aspetto A Questo Punto Che Lui Capisca Che Non Ho Mai Bleff Ci Proviamo P V R Effect V E Chi è Amo Questo 16 Puoi Ma In realtà Non lo so In realtà Non ne ho idea Perché Cos'è Sto pensando Cioè Shovare Diretto Perché Magari L'ho Fatta A Caso Oppure C'è Meglio Beh Ci Ho messo Solo Due Poi Punto 8 Non sono Convintissimo Ripeto Non sono Convintissimo Perché Perché Non Purtroppo Non ho Guardato Nulla Non so Se è un Player Che Se la Inventa Come Invece Ho Visto Già Di Altri Tipi Di Giocatore Quindi Nel Dubbio Preferisco Tenermi A Una Linea Un po Più Passiva Forse Anche Più Safe Se Non Che Ne Sia Soddisfatto Attenzione Però Perché In genere Non mi tiro mai indietro Ma questo Se non è troppo Troppo vicino Al borderline Tribetta Ancora 9-7 Sud Questo L'ho Già Tribettato Un bel po' Di volte Già Prima Che partisse Se in video L'avevo Tribettato Ogni volta Che avevo L'occasione Ogni volta Che passava Qualcosa Di decente Infatti Platto Pure La Format Qui L'idea È Tare Un Minimo Perché Qui Se Prendiamo Qualcosa Secondo me Ci tira Dentro Pure Quello Che Ha Nella Cassa Ovviamente Il board Si presta Perfettamente A Qualunque Scelta Nostra Capita Però L'abbiamo Già Presso Di Mira Tutti I tavoli Dove c'è lui Ovviamente Cercherò Di comportarmi In maniera Diversa Vedete L'abbiamo Tribettata Anche qui Quando Ho costruito Un minimo Di history Soprattutto Short term Dovete cercare Di sfruttarla Al massimo Quindi A volte Anche quel call Che ho fatto Prima parte È molto lineare Visto il rapporto Che abbiamo In termini Di stack To pot Ci sta Sicuramente Cercare Un attimino Di spingere Pensavo Una cosa Cos'è Se ogni tanto Mi interrompo Perché rifletto Penso Altre cose Mi è stato Ovviamente È la differenza Cioè il rapporto La divisione Che c'è Tra quanto avete voi E quanto è grande il piatto Basta Nulla di che Ovviamente Questo valore Ci serve Per capire Quante Streets Abbiamo Di value Ci serve per capire Come gestire Il postflop Eccetera Eccetera Quindi è un parametro Molto importante 8 8 Io credo Ne farò Un altar Per prendere valore Da tutte le quadri Faccio molto piccolina Ecco niente Ci ho provato Kjack Siamo stati chiamati Da questo tizio Ne farò Proverò una Delay al turn Per poi Bettare al river Soprattutto Una volta che Sceso fiori Niente Neanche questa Io pianifico Pianifico Ma poi Nella gente Mi fa giocare Va bene Se tre su Forse potevo mettere Se ho pescarso Sì Ci stava Alla fine Non mi voglio azzare Perché con Bet waves Ho preso Un attimino Di confidenza Qui faccio Call molto light Per chi mi aspetta Che il big blind Metta Altrimenti per me È sempre un fold O scusate Volevo dire Una 3 bet O un Un fold Rarissimamente Faccio call In questa situazione Mentre se Dovesse Cercare il fish Perché mai Abbiamo assoluto Che questo è un fish Betterei Ovviamente Se betta lui Direi che Possiamo farci I fatti nostri Come sempre Siamo molto Molto sereni Ci facciamo Sempre i fatti nostri Va anche Questo tavolo Non è che Sia proprio Il massimo Massimo Della vita Questo continua Ad aggrare Come se non ci fosse Un domani Interessante 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 Perché mi fa rivalutare Ancora la mia scelta Forse facevo bene A sciovarlo Allora Dicevo Questo è arrivato Vediamo Questo dovrebbe essere Un fish Vediamo Vediamo Potrebbe essere ancora Una situazione buona Assono vessute In alto Al tavolo 2 Punterò Contro 2 Facciamo una size Anche un po' più robusta Questo è addirittura Limpa Bellino Ok board No non bettabile Contro 2 Non bettabile Questo chiamo ovviamente Sperando che metta anche l'altro Sarebbe anche da isolare Ma ripeto Voglio che metta anche l'altro E a questo punto c'è Cryso Sperando che metti Perfetto Anche il size è abbastanza robusto Così facciamo Ci togliamo il pensiero In due strade Se sciova Snap o instant Ah tribetta Beh solo 9-9 Ci batte Ma non mi spavento Ovviamente Siamo molto bravi Veramente molto bravi E qui ho fatto Quello con 4-4 Al tavolo 2 Ovviamente Perché voglio giocarmi Il pot Questo è un tavolo Terribile da togliere E aggiungiamo Questo qua Che abbiamo appena giocato E un tribettato mio Dove andrò a bettare Ovviamente E vengo risato Da Juju Che in genere O ha una Pair Io potrei sciovarlo A questo punto Ma fold Fold Anche se non so come dice Ho forbettato betwaves Perché come ho già detto C'è una piccola history Già creata Quindi Proprio si è creata Una situazione idonea Secondo me Come minimo mi flatta No Non ci credo Peccato Forse ho fatto un po' grandino Ma siamo un po' deep Quindi Non potevo limitare ancora la size Sono pentito forse Del fold con K-Donna Al tavolo 1 Perché Questi raise for info Molto spesso Sono indicativi di mani Da passare Poi soprattutto Questi tipi di player Sono imprevedibili Forse non era neanche il caso Allora 10-8 Abbildiamo un po' Il pot Vediamo un po' il pot Alla fine ci sta Adesso K Questo ho appena Preso un culerino Quindi Neziamo una bella size robusta Se sciova Snappo Snappare Significa Callare immediatamente Pierlaino Non capisco perché L'avevo messo in regola Ma non ricarica Non mi fa Non mi entusiasma Questa cosa Non mi entusiasma Ah se ne è andato qua Vannaccia Peccato perché c'era comunque Un bel player Come ho già detto prima C'era veramente un bel player Peccato Quello lì era Un player interessante Contro cui giocare Pirlaino Calla Allora in questa In questa situazione Ha un livello Medio alto Non è quasi più Da farne tre Perché ormai nessuno Chiama Ma qui ancora Dai Qui ancora direi che Si possono fare tre Barre Facili Poi ovviamente Quando si parte Con un plan Quindi con una Pianificazione Dovete sempre Tenere in considerazione Che non è che Se avete l'idea Di farne tre Allora in automatico Qualunque cosa succeda Dobbiamo fare tre Come se Avessimo firmato Un patto col sangue Se ne fanno tre Ma a determinate condizioni Poi vediamo il board Come continua Eccetera eccetera Prima squizzata Sto jack Spero Ripeto che La situazione Non peggiori Non peggiori Così intendo Che non ci siano Che ne so Due call Invece non ha Collato nessuno Mi piace Ok Questa ve la voglio far vedere Velocemente Era l'altro tavolo Apro con asso k Call da small Quindi attenzione Sempre a dove è stato Fatto il call Call da small Faccio bet Bet E bet river 28 La stagione non troppo grande Vengo chiamato da Asso donna Questa ve la spiego Fra un secondo Ma il succo del discorso Qual è? E che ovviamente Noi dobbiamo cercare Sempre di masserci Massimizzare il value Sempre Preoccuparsi Troppo Di cosa possono fare Gli avversari Deleterio Ovvero Noi in quella situazione Ci troviamo Contro un avversario Che ha naturalmente Fatto Tutto il necessario Per cercare di Portare Il pot Alla sua parte Un attimino Un attimino Perché Ok Qui farò Quello che fanno Sempre loro Mini race Ora vi spiego Il perché Che è Ehm Ehm K Madonna E ora Shovo Si è Overpay Ramen Ok Fold Allora, cosa ho riflettuto? Su quante volte potesse bluffare questo board? La size è da polarizzazione Cosa significa? Significa che ha fatto una puntata talmente grande Che la sua idea è quella di rappresentare una combinazione ovviamente O molto forte o molto debole Il punto è che Quelle volte in cui la sua mano è più forte della mia Sono chiare Colore, set Le volte in cui la mano è più debole Sono quelle poche combinazioni di bluff puro Che ha scelto di utilizzare Quindi dal mio punto di vista Credo sia Molto meglio foldare Mentre al tavolo 2 Vi stavo spiegando il perché dell'overpair Cioè dell'overbet, scusate È abbastanza semplice Io ho fatto un mini raise al flop Che è quello che fanno spesso loro per capire dove stanno nella mano Non è la mia idea ovviamente A me non me ne frega nulla Io ho abbastanza idea di quello che devo fare Mettiamo una faccina tipo come se fossi arrabbiato Ma ovviamente non me ne può fregare di meno Semplicemente riflettuto Dicevo, l'idea è quella di provare a fare quello che anche loro fanno Quindi in maniera tale da entrare nella testa media di un giocatore ovviamente occasionale E il push al turn con doppio bluff Con doppio flash tromissato E proprio per rappresentare che cosa Flash tromissato Bah faccio call con Assodon in realtà Faccio call perché Perché comunque questo che squizzi non mi aspetto sia solo top range Un gioco occasionale Quindi avevo pensato anche di shovare diretto in realtà E giocarmi anche un possibile flip Se non a volte metterle pure da sopra Ma pazienza T9 hold Vediamo se si può mettere quest'altro tavolo Perché non è un altro carino Nell'altro monitor Cosa posso togliere? Vediamo un po' Questi sono tre reg sicuri Il suo signor Stefano che ce l'ho verde Ma non so neanche se è vero Sì un tavolo Questo è buono Questo è buonazzo Questo è buono No vabbè però lo lasciamo così E quello dove ho fatto quella value bet E vi ho fatto vedere prima E in compenso ho perso lo stack comunque Cioè ho perso lo stack con tutti gli altri in quel tavolo Qui proviamo Ma stavolta facciamo una bella robusta 8 bui Proprio aggressivo Voglio che proprio foldino Sì vabbè Qui direi che Ci facciamo i fatti nostri C'era il programma Sorei 2 Lo fanno la mattina I fatti nostri C'è la mia ragazza dietro E mi correggia Dice i fatti vostri Infatti la mia era una battuta Non simpatica Ma Occhiale The best Stranamente Squizzagliass Qui veniamo chiamati da due E ancora non ittiamo nulla Quindi non riusciamo a isolarci neanche facendo 8 bui La prossima sarà 12 bui Ovviamente foldiamo Qui questo è un tavolo fantastico Questo appena Prendiamo un minimo Vi assicuro che qui sia da fare veramente Il botto In quale senso Non lo so Possiamo farlo anche al contrario Nel senso che Perdiamo noi Però Ci proveremo ovviamente Tu 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 Qui Dando questo Gli tolgo tutto Non lo so cos'è Qui vabbè foldiamo Qui ci isoliamo Se ci fanno isolare Isolarsi non è facile A sto livello Facciamo 16 Sperando che qualcuno Gli venga la brillante idea Di sciovare No Di chiamare Di chiamare Di chiamare E di Pottare Io se ha meglio Bravo Naturalmente Però Credo che Abbastanza spesso Ce la giochiamo bene Purtroppo Lo showdown Non c'è amico Ma va bene Uguale Nel senso che Flashtro Spare più qualcosa Sicuramente non ce la giochiamo alla grande Dopo che ha donkato Ma callare cosa cambia Cambia nulla Troppe volte il turn è peggiore Quindi sinceramente L'ho vista come l'unica alternativa valida A quello che poteva essere ovviamente Una Una giocata in quello spot Non mi aspettavo Flashtro Passo K Scelta interessante Sinceramente non mi aspetto che la media di questi player sappia flattare una 4bet Quindi Bene Avevo detto che avrei preso le note Però sono un bugiardone Che Sto parlando talmente tanto Che non riesco a fare in tempo A far tutto Quindi Si avrei dovuto scrivere Qui comunque che è flat la 4bet Passo K Su Avrei dovuto scrivere tutte le altre cose che abbiamo notato Negli altri player Quindi Sono un Un coach un po' discolo Dico le cose ma non le faccio Mentre parlo con voi si sta caricando un video su youtube Che Ovviamente verrà messo come sempre Nella pagina In modo che tutti possiate Prenderne visione E possiate ovviamente come sempre commentare E dirmi un po' Cosa ne pensate E' un video che ho fatto al No Limit 25 Yes Yes Uno mi chiede se sono veramente prasti Ogni giorno mi c'è sempre sta domanda Come se tipo io potessi dare l'account a qualcun altro Questa cosa è fantastico Tutti mi chiedono ma sei prasti Caspia dovrei essere non lo so Si o no Vabbè questo è addirittura onorato Mettiamo una faccina Imbarazzata Qui abbiamo giocato bet bet E alla fine arriva una bella vera bet Perché? Perché colore non me l'aspetto molto spesso Ma invece abbiamo capito una cosa importante Che questo tizio se hita Non folda mai Questo è fantastico Questo tipo di informazione Perché? Perché abbiamo individuato Se hit Se hit Non folda mai Questo cosa sta a significare Che il nostro shove di prima era giusto A meno che C'è una considerazione da fare Ci rifletto un attimino A meno che Per lui Giocarsi lo stack Sia stroppo Cioè lui mette Quando crede di essere avanti Ma se c'è da giocarsi lo stack Folda Allora 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 Questo è quello che potrei fare Ma non è la situazione idonea Allora 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 Tavolo Number 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 Three K5 K8 8 8 8 Shove Shove Perché poker 8 6 2 7 Non dovrebbe avere spesso Una mano migliore della mia E con pay Questo qui Tutti i kx mette Quindi Se 8 8 è un cooler Secondo me L'idea dell'overbet Ovviamente Mi può far pensare Che sia molto spesso Con una combinazione migliore Lo interpreto Ripeto Come ho già detto Come un cooler Qui ho tribettato T3 suited Spero di essere forbettato E passare Non voglio giocare il postflop Onestamente Perché Oppure ovviamente Che lui fold Ci mancherebbe anche Quella è una scelta buona No Ha foldato quel player Cioè Ha quittato quel player Mannaggia Quello che era il tavolo 4 Vabbè Pazienza Dicevo Mi aspetto Che Batwaves Possa giocarmi In maniera aggressiva Ripeto Per quante volte Comunque ho aggredito Contro di lui Quindi Sto cercando Ovviamente Di Di far diventare Una partita Ancora più aggressiva Naturalmente Dopo che abbiamo fatto Tutte queste cose Ragazzi di importanti Adesso non è che Ci alziamo e quittiamo Cioè Adesso abbiamo veramente Un bordello di histori Con gli avversari Questo pay Ci ha visto comunque Metterle dentro Più volte L'altro player Percato che se n'è andato Ma in generale Ci aveva visto anche lui Aggredire Cioè Questa è una situazione In cui ragazzi Questi tavoli Non si mollano più Cioè Così che si costruisce Abbiamo iniziato Con un'historia Abbastanza aggressiva E adesso Continuiamo Ovviamente Alcuni mi diranno Eh Alberto Però vedi La gente Lascia i tavoli Amen Questa Questa è la zitta Ragazzi Cioè Se potete giocare Volete fare dei poker player Bene Se volete Pettinare le bambole Andiamo a pettinare le bambole La scelta Dovete prenderla voi Questo folto Allora Vediamo un po' Ancora i tavoli Sembrano abbastanza buoni 2-2 Metto ovviamente Sono odds Troppo Vantaggiosi Per foldare Sto riflettendo Cosa che non si fa mai Attenzione Questo è un consiglio Che vi do E deve essere seguito Veramente come il più importante Di tutti Se avete giocato Se avete giocato una mano Di cui non siete convinti Non rifletteteci Mentre grindate Ma fatelo dopo Cioè Segnate la mano La copiate in un blocco note La scrivete a penna Da qualche parte Ma non fate mai riflessioni Mentre state giocando Io perché lo faccio Perché soffrendo il video Quindi ho bisogno Di parlare Dello spot E soprattutto perché Tra poco lo interrompo Questo video E dicevo che ovviamente In quella situazione Sono un po' pentito Del fatto di aver Pushato Perché secondo me Il call ci stava Altrettanto bene In quella situazione Perché vista l'overbet Da parte di quel player Non mi aspetto Troppe volte un range Come quello che ho descritto prima Quindi credo di aver fatto Un errore Ma Ne parleremo meglio dopo O comunque nei commenti Se avete delle considerazioni Da fare Naturalmente fatele Non vi tenete tutto per voi E non fate i passivoni Io vedo visualizzazione A manetta del video Cioè scrivete pure Bel video Prasti merda Cioè scrivete qualcosa Va Rendetemi partecipi Ovviamente Anche perché Io quando guardavo i video Io quando ho iniziato Ragazzi guardavo una marea di video E quando guardavo i video Io ero veramente Un rompipalle Cioè nei siti Americani mi odiavano Perché io commentavo ogni spot Stavo lì Chiedevo Facevo Ma qua che mi parla di peggio Boh Proviamo Ehm Ero proprio un rompipalle Perché alla fine La mia idea era Io devo imparare Quindi A costo di dire Una porcheria La dico Cioè non mi interessa Non ho minimamente Intenzione di Per evitare Di sembrar scemo Non chiedere Io Quello che sono diventato In ambito pokeristico In tutti gli altri settori In cui mi sono lanciato Lo devo al fatto Che non mi sono mai Preoccupato di fare domande Mai Ho sempre chiesto tutto Mi sono tolto tutti i dubbi E poi Ho capito Ok questa cosa è giusta Ok questa cosa è sbagliata Se mi tenessi sempre i dubbi Rimarrei Nella stessa posizione In cui mi trovo Quindi Cosa cambierebbe? Nulla Se avete un dubbio Su una mano che ho giocato io Se pensate che l'abbia giocata male Ci sta E' anche impossibile Che abbiate ragione Perché Due motivi Uno Non sono infallibile Due Non sono allenato Come prima Tre Parlo Mentre grindo Quindi è normale Che parlare Cliccare Non siano due Gesti Immediati A volte ci sta Ecco ad esempio Qui ho fatto una size stupidissima 3.6 Troppo piccola Però vedete Se nel frattempo parlo E sto seguendo Un determinato Concetto Magari Mi perdo Mi perdo da qualche parte Non riesco a essere concreto Non riesco a fare le cose In una maniera giusta Per questo dovete Sempre Essere Nella condizione Migliore Ovvero Guardare Quello che sto facendo io Vedere Perché l'ho fatto E se non siete convinti Chiedere Poi magari Avevo ragione Io E dite Ok scuso Hai ragione Però avete imparato Una cosa in più Perché Primo L'avete scritta E quello che è scritto Rimane Secondo Vi siete messi in gioco E mettersi in gioco È quanto di più bello Ci possa essere Nel processo di crescita Infatti abbiamo buttato Un paio di cibette Così Belle e aggressive Allora 4 way pot Questo La batteremo Ma già Al primo race Mi inizio A cambiare Le mutande Perché È chiaro Che La nostra mano È simil forte Ma non Fortissima Quindi Ovviamente La battiamo per valore Inutile Soprattutto a questi livelli Inutile anche Stare lì a rifletterci Chiaramente Chiaramente una bet For value Anche in 4 way Quindi anche size Bella robusta Perché gli ASX Chiamano E tutti i flush Lo chiamano Eccetera Eccetera Se dovesse Se dovesse forbettare Stavolta Lo scioviamo Ci sta tranquillamente Il call in BVB Ma Non è la prima tribet Che gli facciamo Potrebbe scegliere di forbettare Un po' più loose Abbiamo fold equity Blablabla Over pair Ma credo Non sia L'unica combinazione Con la quale Cercherebbe Ok Avendo chiamato Pure lui Ci sono anche Delle overcard Con le quali Potrebbe giocare La stessa maniera Interessante Sarebbe un ulteriore Bet di bandiera Goz Alla quale io Folderò Perché comunque Bettare in 3 way Non è semplicissimo Soprattutto A questi livelli Io non ho preso Una nota su di lui Mi sono scordato Quindi non so Se è un regular Non sono occasionale Potrebbe essere un regular Quindi Mi aspetto Tante volte Di essere bettato E soprattutto Il mio range Molto cappato Cosa significa Range cappato È un range Comunque racchiudibile Facilmente all'interno Di un insieme Troppo Semplice Diciamo Da individuare Quindi I range cappati Sono quelli che Dovreste sempre evitare Soprattutto Contro avversari Competenti Qui la scelta È Lui è competente o meno Non lo so Nel dubbio Mi faccio i fatti Meno Cioè sarebbe stato Un coltare Per foldare river A meno che Lui non Si arrenda river Ma io come faccio A saperlo Dovrei testarlo E anche lì Una spesa eccessiva Per la posizione che ho Per il fatto Di aver chiamato Eccetera L'altro video Si è caricato Fantastico Ok Questo si è messo Sit out Sit out Allora Allora Questo è un fold E' un pochettino Un pochettino Di tag A caso Potremmo Non credo Ci siano più Altri spot Da visualizzare Interessante Vedere cosa succede Qui Ah fold addirittura Fantastico Non me lo sarei Mai aspettato Giuro Ammetto che Questa Non me l'aspettavo Lo ammetto Questa Non me l'aspettavo Va bene ragazzi Direi che Possiamo chiuderla qui Il prossimo tavolo Ora Finiamo sit out Finiamo sit out Anche nell'altro Quindi vi ringrazio Per l'attenzione Come sempre Domande Dubbi Chiarimenti Commentate Mi scrivete in privato Mandatevi una cartolina Io sono Come sempre Felicissimo Di avervi Di avervi raccontato Le mie mani Sto provando A aprire un canallino Twitch Magari vi faccio vedere Anche qualche sessiona Dove potete farmi Proprio delle domande In diretta Per il resto Niente Vi aspetto Ai prossimi video Un abbraccio Un saluto Da parte di Alberto